Questa è anche giù, è testa, questa qui, sì, bella anche. Ha sensazione, ha portato le vigne, le piante. Mi piace la natura, perché la natura è bella, bella. Mi piace seminare, metti di fiori. Questa esperienza di giardinaggio è inserita nel progetto della Casa di Quartiere, che si chiama Il Giardino di Jonathan, che è una casa di quartiere per over 65 autosufficienti. Alcuni hanno altre problematiche che afferiscono anche a delle difficoltà, vuoi relazionali, vuoi linguistiche, oppure hanno delle disabilità accertate. È un po' presto per dare pieno vigore a questa esperienza, ma i nostri amici possono cominciare a fare le prime cose, piantare i bulbi, ad esempio, potare gli olivi, sistemare un po', raccogliere le fogliacce. Si prendono con piacere cura della natura. È una delle prime volte, però a me è sempre piaciuto stare in campagna e fare queste cose. Perché è bella che la natura vi fiori, le cose si stanno bene. L'esperienza del giardinaggio è un'esperienza davvero speciale per noi soci e per gli ospiti, perché in questa situazione noi abbiamo la possibilità di vederli all'opera in libertà, in mezzo alla natura, in mezzo ai fiori, in mezzo ad esperienze che loro considerano molto belle. E ciò ci gratifica immensamente, anche per affrontare le problematiche che a volte abbiamo, e quindi ci dà energia positiva. Praticamente entriamo tutti in sintonia tra noi e con la natura. Mi piace stare in giardino al sole. Passa sempre. È una cosa bellissima. È una mia rinascita. È una mia rinascita.